Suggerisci tu la scaletta? Suggerisco io la scaletta. Certo. Allora, facciamo presidere tutta l'occhio. Scusate la voce, vado di presto all'occhio. Questa parte qua, la parte a sinistra dice signore e signori. Bene. La parte a destra dice ottaglio e buon uomo, così mi fanno rientrare meglio. Ah, ma la presentazione riguarda te? Un po' con tutto. Cominciamo già. Fate prima voi. Signore e signori. Sì, ma a tempo però. No, perché signore e signori mi va bene quando è unito. Se una parte prima, l'altra parte dopo, logicamente, ma parla ancora. A tempo. Un, due e tre. Signore e signori. Eh, state a questo. Voi, vate scordato già con i miei bambini, sono pure di farmi che mi sono portati. Ottavio, buono, sta scrittendo per un poco a parte, vedete? Non vi fidate che sono Ottavio e buono, non ci vedete adesso. Ottavio e buono, mi ha. Ottavio e buono. La te, ti scappate, ma mi va bene. Boh, insieme. Al mio tre parte prima la sinistra e poi parte la destra. Ma è politica la cosa che parte prima la sinistra? No, 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 no. Anche se non combina, sai, con me. Un, due e tre. Signore e signori, buono, buono. Io, come facciamo qui, facciamo buono, che bello, perché ho già usato il nome latino, buono, mi dicevi di tutto. Allora, io come ne esco, poi rientro un'altra volta, quindi fatemi sentire. Dai, due e tre. Io mi riesco a vivere così una bella presentazione. Ma bo, a fermi. Non mi dite di andare di fretta, perché è bello, vi allungo con mostro a buon principio e faccio meglio fare. Allora, rifatelo bene. Signore e signori, contavate un buon nome. Ci sono tre persone che hanno sbagliato il mio nome. Amo, mi dico. D'accordo. Per favore, fatelo per carità, eh. Pronti? Signore e signori, contavate un buon nome. Grazie.